Signori, the time has come. Il tempo ormai è giunto. Dopo il rinvio dovuto a questo mondo che oramai è sempre più sull'orlo dell'autodistruzione, mancano ormai pochissime ore alla live di annuncio di PlayStation 5. E ovviamente non poteva mancare, soprattutto data la mancanza delle 3 2020 che si sarebbe dovuto tenere in questi giorni, il video riguardante a questo momento. Anzi scusate, mi correggo, i video. Sì perché oltre a questo sono previsti altri due video dedicati a PlayStation 5. Il primo che state vedendo sarà un video di previsioni, vedremo quello che ci sarà, quello che non ci sarà e quello che spero ci sia e rumor vari. Il secondo sarà un live reaction, ma non in live. Detto così suona da schifo, però seguitemi. Avevo questa mezza idea di fare una live vera e propria, ma purtroppo come i fan più fedeli dell'impero sanno, gli strumenti che possiedo sono dell'era mesozoica. Quindi per un evento così importante, fare una live di bassa qualità, con i soliti mezzi di fortuna e che mettendola da un punto di vista più egoistico non mi avrebbe permesso di godere appieno di questo evento che attendo da mesi, non ha moltissimo senso. Ce ne saranno in futuro? Assolutissimamente sì, è uno dei miei sogni più grandi da quando ho iniziato quello di fare delle live durante le varie conferenze delle 3, della Gamescom, che oramai praticamente non esiste più, dei Game Awards e così via. Ma per citare il buon vecchio Professor Rock che già ai tempi la vedeva a lunga, c'è luogo e tempo per ogni cosa, ma non qui e non ora. Però ho deciso di registrarmi mentre guardo la live, un po' come feci l'anno scorso con il trailer di Cannarsi di 5. Ecco, secondo me scegliendo questa strada ne va a guadagnare ovviamente la qualità, soprattutto quella video, essendo poi anche editato posso tagliare i punti morti facendo una sorta di highlights della serata, anche perché il tutto dura ben due ore. Siete d'accordo? Sì? Allora andiamo avanti. L'ultimo sarà invece un commento a mente fredda con un'analisi dei giochi e di quello che si è visto nel bene e speriamo di no anche nel male. Vediamo adesso quello che sappiamo di certo di questo evento. Innanzitutto, come ho detto, sarà un evento di ben due ore, quindi è lecito aspettarsi non solo dei teaser o dei trailer di giochi futuri su PlayStation 5, ma anche dei gameplay, soprattutto per far vedere il potenziale effettivo di questa console al di là delle parole che si sono spese in questi ultimi mesi. Però purtroppo in generale si sa molto poco a riguardo. Sappiamo che ad esempio ci saranno un paio di studi, come ad esempio Santa Monica, che ha fatto una certa serie, di cui però non ricordo il nome. Boh, sarà evidentemente una serie di poco conto. Ci sarà l'autore del Foo Dead Space con il suo nuovo progetto, sperando sia un horror del calibro di Dead Space. Alcuni dicono sia collegato a Silent Hill, però sinceramente spero siano due progetti separati, perché più giochi ci sono, meglio è, e tu gusti smelli che one. Autori di Resogun che hanno un ottimo rapporto con PlayStation e le sue console, soprattutto a lancio, come appunto il già citato Resogun. Do per scontato che ci sia Godfall, la prima vera e propria esclusiva presentata per PlayStation 5, annunciata ai tempi dei Game Awards. E poi il reveal del design della console. O almeno lo spero, e spero soprattutto ci sia una versione nera, vi prego non la voglio bianca. Cos'è che invece manca? Il prezzo e la data, infatti Sony ha deciso di rimandare queste informazioni un po' più avanti, soprattutto per vedere come si evolverà, anzi mi correggo, come crollerà il mondo da qui all'uscita della console. Ovviamente loro sanno tutto, ma in particolare con la data, giustamente vogliono andarci un po' più pesanti. Contrario però della data, il prezzo forse più probabile che sia presente, anche perché in queste ultime ore sono usciti moltissimi rumor a riguardo, tra cui peraltro un leak su Amazon, che peraltro è stato proprio smentito in queste ultime ore, che vedeva la console, mi sembra venduta, sui 700€. Se devo proprio dire la mia sul prezzo, io ce la vedrei bene sui 499€, cioè più costosa di una Playstation 4, con i suoi 399€, ma di certo meno costosa di una Playstation 3 ai tempi, o comunque di una Xbox Serie X. Dal punto di vista dei giochi non ci sono particolari smentite, tranne forse quella di Elden Ring, dato che solo Dio sa che punto sono con quel gioco. E poi abbiamo i rumor, più o meno realistici. Qui ragazzi ne esistono una valanga, che non ne avete nemmeno idea. Abbiamo rumor che vanno da God of War 2, Horizon 2 e Spider-Man 2, che già queste tre esclusive farebbero l'evento di per sé. Ci sono rumor, soprattutto in queste ultime ore, sul nuovo Crash Bandicoot, e dato che Crash è nel DNA di Playstation, sarebbe perfetto. Piccola speranza mia, ma che purtroppo non ha rumor già da un bel po', è un remake di Ape Escape, ma è solo il sogno del mio io bambino. Oddio, anche del mio io adulto. Si parla di Silent Hill, che è praticamente quasi una certezza, data la valanga enorme di rumor di queste ultime settimane, è quello che ha avuto più rumor a riguardo. Però io sono come San Tommaso, quindi lo metto tra i rumor, piuttosto che tra le certezze. Resident Evil 8, il nuovo Call of Duty, Bloodborne Remastered, approfittando del fatto che sembra che stia per uscire anche su PC. O ancora meglio, la famosa e tanto attesa Remastered di Demon's Souls. E perché no, tutte e due, lì allora orgasmo definitivo. Gran Turismo 7, impossibile, ma incrociamo le dita. Final Fantasy XVI, di cui sono usciti una specie di rumor un paio di settimane fa, ma è veramente molto improbabile. GTA 6, di cui invece si hanno rumor ormai da mesi. Insomma, come al solito, la fantasia viaggia a mille, soprattutto in vista di eventi importanti come questo. Certo che se solo la metà di questi sarà presente, aspettiamoci pilastri della terra a tremare. Però quello che mi aspetto veramente e che spero con tutto me stesso è quello di tornare a sognare. Non solo in un periodo come questo, ma in generale. Voglio tornare al periodo delle tre, dove Sony faceva sognare con teaser. Anche di giochi che sarebbero usciti magari decadi dopo, ma che al solo sentire quel soundtrack o a vedere quelle immagini, ti facevano venire i brividi. Questo voglio. La magia che purtroppo da troppo tempo, in questo periodo, chiamiamolo il periodo delle tre, manca da anni. Sembra peraltro che sia così, dato che per tornare ai rumor dicono che ci siano stati molti rimandi prima di quello più conosciuto di settimana scorsa. Perché Sony voleva avere il controllo per avere la massima qualità di questo evento. Cosa dire? Speriamo bene. Quindi bella gente, fatemi sapere quali sono le vostre aspettative e i vostri sogni. Vi aspettate il compitino? L'evento della vita? O una cacciaronata stile gameplay reveal senza gameplay di Microsoft? Per questo vi ricordo di supportare quello che state vedendo, di attivare soprattutto le notifiche perché, come detto all'inizio del video, nei prossimi giorni ne arriveranno altri legati a PlayStation 5. Quindi, detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie a tutti.